I principali temi che orbitano attorno alla salute del cervello, dalle malattie correlate all'infiammazione allo stroke e i nuovi orizzonti diagnostici offerti dai biomarcatori, che consentono il riconoscimento precoce di tante malattie, soprattutto quelle neurodegenerative, sono al centro del 54esimo congresso della Società Italiana di Neurologia, in svolgimento a Roma fino al 12 novembre. Il presidente della Società Scientifica traccia un bilancio dell'edizione 2024 del congresso. Questo è stato forse il convegno nazionale più popolato, abbiamo avuto più di 3.000 presenze e 2.500 soci che si sono trovati qui per tre giorni, io devo dire è stata forse l'edizione più entusiasmata detta di tutti, sarà anche perché questo è un grande posto, sarà anche perché Roma è Roma, però certo abbiamo avuto un grande successo, soprattutto nella soddisfazione di chi è venuto qua, ma anche la qualità dei relatori, abbiamo fatto una scelta molto forte, anche molto caratterizzata su temi che potessero interessare il vasto pubblico, ma portando qui degli esperti, anche internazionali. Il progresso dell'ingegneria genetica sta facendo da sparti acque nel trattamento del morbo di Parkinson. Sul Parkinson diciamo le terapie ci sono e forse quando si parla di terapie risolutive ecco lì ci sono delle attese che forse non sono in questo momento facilmente risolvite, ma si tenga conto che ci sono alcune forme di Parkinson dovute a malattie genetiche o alterazioni genetiche, su questo anche la relazione di Aguzzi segna che l'ingegneria genetica sta facendo passi da gigante e probabilmente avremo delle terapie personalizzate a seconda della predisposizione genetica. Per la malattia di Alzheimer esistono farmaci che controllano i sintomi, ma sono necessari ulteriori passi avanti. Abbiamo bisogno di farmaci in grado di prevenire la malattia, di rallentare la malattia e magari di arrestare la malattia. Direi che qui la luce in fondo al tunnel si sta facendo un po' più chiara, non sono tra quelli che ritiene che bisogna andare troppo veloci. Se EMA proverà, questo cambierà drammaticamente il nostro sistema, ma oltre ai farmaci che attualmente vengono discussi in EMA ce ne sono tanti altri in sviluppo. Quindi io credo che anche per la malattia di Alzheimer, senza correre, ma il futuro dei prossimi anni è sicuramente soddisfacente.